Oggi faremo degli esperimenti folli e totalmente illegali su Steve e gli zombie di Minecraft, in VR ovviamente, anche su Marcello. Alla fine infatti riuscirò ad entrare nella dimensione del land attraverso il portale nascosto in un villaggio di Minecraft e ci sarà una battaglia epica tra l'esercito degli Steve e l'esercito degli zombie indemoniati, ragazzi è successo un casino! Siete curiosi di vedere tutti gli esperimenti su Steve, Marcello e gli zombie di Minecraft e soprattutto il combattimento finale nel land? Restate con me fino alla fine per scoprirlo! E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace che fa sempre piacere! Buona visione! Questa non è Ibiza e infatti è Minecraft! Come ci sono finito qui dentro? Guarda quanti minerali, quanto carbone! Posso picconarlo? C'è nessuno da queste parti, Marcello! Anche tu ti sei perso in questa caverna? Oh, imbecille! Sono qui! Mamma mia però sei sempre più brutto! Mi riconosci? Sono Poggo, sì, sono sempre vestito da Spider-Man! Ma che ci facciamo in una caverna di Minecraft? In un mineshaft? Eh? Lo sai l'inglese? Sai che vuol dire mineshaft? Io non lo so! Oh, oh, oh! Allontanati! Avada kedavra! Expelliarmus! Ed imbecillus! Scusa! Scusa! Oh! Ma quello è redstone? O sono rubini? Rubini! Sono quelli che si rubano! Perché sono rubini? L'hai capita? L'hai capita? Sono troppo divertente! Rialzati! Rialzati! Eh? Ti vuoi picchiare? Fermo! Fermo dove sei! Ti dichiaro in arresto! Su! Prima di tutto esploriamo insieme questa caverna! Magari ci sono dei ragni? Ma magari c'è anche una chest! Ok, piano! Ci sono i diamanti! Marcello! Marcello! Vai a prendere i diamanti! Vai! No, no! Marcello! Eh? Credo che Marcello non possa più prendere i diamanti! Ma non posso neanche io! Come faccio a buttarmi nella lava? E là? Ti ancora vivo? Ma se provassi a lanciare il piccone di diamante? Vai! No! Mi ho mancati! Era il mio unico piccone di diamanti! Va bene! Posso tornare indietro e prendere altri minerali? Eh? Salve! Io pensavo che su Minecraft ci fosse Steve! Non dei Marcelli gnomi! Chi siete? Siete figli di Marcello? Ehi là! Potete parlare? O non sapete parlare? Mamma mia! Guardate il suo collo! Guardate il suo collo! Cos'è? Marcello la bambola assassina? Sì! Sono più assassino di te! Body slam! Pow! Paparapa! Vieni! Vieni! Rialzati! Eh? Vuoi fare a botte? Cosa sei? Un gnomo armato di ascia? Eh? Io! Sono Spider-Man armato di lava! Dai! Torna da tuo padre! Devo darvi una brutta notizia! Uno dei vostri fratelli è caduto per sbaglio nella lava! Ma Marcello non è vostro padre! Io! Sono vostro padre! Wow! Musica epica! Zwaaa! Oh! Oh! Zwaaa! E muori! Mamma mia! Tu sei il prescelto! Dovrai portarmi da Steve! E poi dovremo entrare nel Land! Sì ragazzi! C'è anche Land con il portale dove ci sarà una battaglia epica tra l'esercito degli Steve e l'esercito degli zombie indemoniati! Sto scherzando! Ci vado da solo! Bwaaa! No! 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 È diventata una lampada! È diventata una mini lampada! Guardate quanto è bello! Aspetta! Aspetta! So dove metterti! So dove metterti! Dammi la mano! Dammi la mano! Vieni qua! Imbecille! Imbecille! Vai! Vai! Perfetto! Una mini lampada nella lava! Una lava lamp! Ragazzi! Mi si stanno aprendo i neuroni! Sono troppo intelligente! Tu non puoi stare qui! Tieni! Vieni con papà tuo! Perfetto! Tieni! Vai a prendere i rubini! Divertiti! E mi raccomando! Crafta una chest e mettili lì dentro! Ok? Steve! Per caso sei qui dentro? Mi sa che devo andarlo a cercare nei villaggi! Dovrei avere anche una spada! Mai dire mai! Mini Marcello! Stai lavorando? Dai! Devi prendere i rubini! O la redstone! Così posso creare delle torture! Muoviti! Di che cos'è questa spada? Mamma mia! Il riflesso sulla spada mi ha distrutto gli occhi! Guardate! Sono diventato cieco! E là? C'è nessuno? Come torno sopra adesso? Mi date una mano di chiunque ci sia qui dentro? E tu che fai là dentro nel muro? Stavi cercando di scappare da me! Ah! Maledetto! Maledetto Gregory! Che problemi hai alla faccia? Perché stai tremando? Eh! Parla anche tu! Ti lancio la torcia in testa! Sì ma non vedo più niente! Mi serve la torcia! Allora? Sai un modo per scappare di qui? Scavando lì con il piccone! Ma ci metto dieci anni! Va bene! Va bene! Levati! 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 Mamma mia sta spada di ferro! Fa schifo! Levati! Guarda! Ridammi! Ridammi la spada! Ridammi la spada! Te la lancio in testa! Allora? Io direi che questa la tieni tu! Nel dubbio sei morto inciampando! Perché volevi scavare verso l'alto! Ok? A posto così? Senti Gregory non per qualcosa ma puoi chiudere la bocca! Mi metti ansia! Senti! Levati proprio! Vai! Vai! Aspetta! Aspetta! Prendi e vai a scavare anche tu i rubini con il mini Marcello! Così in due fate più veloce! Ora dammi la torcia! Da qualche parte dovrei aver lasciato un piccone! Eccolo! Perfetto! Ma di che materiale è esattamente? È un materiale che non esiste su Minecraft! Vabbè! Mi servirà comunque per tornare in superficie! Steve! Sto arrivando! Mamma mia! Che fatica! Ma quanto ci vuole per salire in superficie? Ma dove sono finito? E come faccio a risalire su senza blocchi? Ah! Effettivamente sono Spider-Man! Ah! Oh! Oh! Aspetta! Aspetta! Piano! Piano! Sì! Ce l'ho fatta! Sono dentro al villaggio! Ok! Un attimo! Oh! No! 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 Meno male! Meno male! Io sono un ragnetto! Ma non come quelli di Minecraft! Sono un ragno buono O meglio, non con tutti Ma con la maggior parte delle persone, sì Finalmente la luce Certo, prima c'era la luce della lava Adesso c'è la luce del giorno Steve, sei da queste parti? Villager, c'è qualcuno Ho visto una luce provenire da questa torre E là c'è nessuno Dopo vengo a rubarmi qualche pezzo di armatura Vengo in pace Non ho armi Almeno, non in mano Ne possiamo parlare amichevolmente Cosa è successo alla porta, sta sparendo Dicevo, ah, ecco Steve Ovviamente non amichevolmente Perfetto, ho una padella Si sta accendendo la luce, avevo visto bene allora Ehi là, Steve, tutto bene? Oh, 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 sono qui Ti ricordi di me? Sono Poggo Doggo In questo momento sono anche Spider-Man Vedi? Ho le ragnatele, ti piace? No, scusa, scusa, rimettiti Al tuo posto Allora, mi devi dare una mano Cosa sta succedendo alle tue braccia? Ti prego, smetti No, ti prego Ti prego non dirmi che l'ho ammazzato C'è un altro Steve C'è un medico, non lo so Un attimo Oh, oh, no No, mi sai che è morto Ok, scusa Steve È che non posso tenerti qui Se mi vede il golem Credo mi faccia tanto male Quindi, per favore Stai nel pozzo Grazie Fammi riprendere la padella Vediamo se riesco con la ragnatele Mamma mia Sono più Spider-Man di Spider-Man Mi è venuta un'idea Voglio esplorare la zona della fornace Magari lì dentro ci lavora qualcuno E là? Mi sentite? Sto per entrare E ho una padella in mano Ma non la utilizzerò Altrimenti veramente faccio una strage Vengo in pace Ma non troppo Mamma mia Cos'è quella torcia? Che problemi ha avuto? C'è qualcuno? Mamma mia però Potevi metterti al centro E non nascosto in un angolo Ma che ansia Anzi sei nell'angolo dell'angolo Comunque sì Sì va bene Posso la padella Ti fidi di più così? Ok Posso la padella In che senso anche le altre armi? No no altre armi Va bene Va bene Ok tranquillo Posso anche la zappa di diamante La spranga di ferro E la mazza da golf Ok? Va bene adesso? Sei più contento? Stupido imbecille? Mi devi dare una mano Dobbiamo costruire il portale del land E entrare nella dimensione del drago E poi scontrarci con gli zombie Capisci? È una missione epica Ci sarà uno scontro epocale Dai Allora? Mi aiuterai? Guarda che quelle armi le posso ancora usare Quindi? Mi aiuterai? Adesso? Guarda che te la spacco in testa Ti cambio il colore degli occhi Muoviti Muoviti Oh Oh Stai attento Guarda che uso anche questa come bacchetta di Harry Potter Avada Che davra Non funziona Abbassa le manus Sposta sta mano Mamma mia Sposta pure questa Ecco Adesso va molto Meglio Ti ho detto che le manine Le devi tenere ferme Steve? No 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 È morto pure questo L'avete sentito anche voi questo rumore? Sì sì Uso la zappa C'è nessuno? Ho sentito il verso di uno zombie? Sono molto armato Questa è affilata Ci ho coltivato le patate prima C'è qualcuno nelle vostre case? Ho sentito dei rumori Ambigui Eccolo Maledetto ma da dove è uscito? Stanno fuori uscendo dal portale del land? Vuol dire che qualcuno l'ha già creato? No 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 Questo non mi piace Imbecille Ho una zappa di diamante Ok? Piano Piano Eh Piano 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 Eh No 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 Eh Oh Stai calmo Io non sono la tua preda Ok questo zombie mi sembra docile Può essere che uscendo dal portale del land Diventano stupidi Fermo così Non facciamo scherzi Sì Ho un fucile Ma ti pare che sono su Bonlab in VR vestito da Spider-Man E non mi porto un'arma Oh eh oh Oh Non ci arrabbiamo eh Ti pare che secondo te ti venga ad ammazzare con una zappa di diamante? Adesso dimmi dove si trova il portale del... Oh 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 Ma sei tutto scemo Guarda che ti fucilo Guarda te sti idiota Ok Non mi dirai dove è il portale del land Ma almeno sei morto Me lo trovo da solo Mamma mia No 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 Il fucile me lo tengo Mai dire mai Prima di andare nel land per la battaglia finale Voglio fare un piccolo esperimento Sì C'è uno zombie in un buco Io userò la moto Per prenderlo in pieno Eh Sei contento Piccolino Oh sei contento Sei contento Ok ti faccio saltare il cervello Come quell'altro imbecille Se ne hai uno di cervello Anzi Adesso te lo spappolo con la moto Mamma mia Sono pazzo Sono pazzo Io amo questi esperimenti Guarda guarda Adesso No 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 Aspetta Aspetta Un attimo Moto Ok Piano Ole Ok Ci sono Sei pronto? Bro Mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia Esci dalla moto Esci dalla moto ragazzi Io Io non ho parole Io non ho parole Mi è impazzita la moto Aspetta Ammazzo anche la moto Mai dire mai Un demone l'hai impossessata Te Prenditi anche il fucile Per favore Oh e prenditi il fucile E mamma mia Adesso va meglio Per favore demoni Non venite a disturbarmi Grazie Un portale dell'end Un portale dell'end Oh Lì c'è una specie di ponte di legno Potrebbe essere da quelle parti Però Ho un piccolo dubbio Secondo voi Tra Marcello Uno zombie e Steve Cadendo da una torre Chi muore? Arrivo Opla No scusa Scusa Vabbè proviamo prima Con lo zombie Cadi Cadi Su Lo zombie Credo sia morto Tu non ti preoccupare Che sei l'ultimo Stai fermo là Steve lo voglio buttare giù Con un pugno Al volo PAA Ce l'ho fatta Eh Aspetta che risalgo Aspetta che risalgo Ok Prendi così Dalla gamba E Body slam Ah L'ho buttato sul tetto Aspetta No Aspetta Dai prendilo Con la ragnatela Ok L'ho preso Perfetto Perfetto E adesso È Sul pavimento Più o meno Sì Adesso è sul È sopravvissuto Questo vuol dire che se tu muori Ha vinto Steve Ok Perfe Oh no No Devo Che cosa fai? Che cosa balli? Stai buono Stai buono Vieni qua Vieni qua Ok Fermo Fermo Body slam Eh sì L'ho fatta con te la body slam Vivo e morto Oh Non ci credo E vivo anche Marcello Ok Adesso non più Vediamo se Steve Resiste Ad un pugno E mi dispiace Perfetto Adesso vado a prendere le armi che ho nascosto Prima di entrare nel land Devo però ricordarmi dove Ah Probabilmente lì Ok Vedo la mia pistola Vedo qualcosa No Ma questa non l'avevo nascosta io Vabbè Questo Neanche leva Sta roba Qui dentro Dovrebbero esserci Le mie armi Sì 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 Aspetta Allora La spada di diamante Ok Il mio fucile A pompa Che però adesso devo ricaricare Perché ho sparato Per sbaglio Un coltello Che può sempre servire E una pistola fritta Magari mi viene fame nel land E me la mangio Ok Dobbiamo andare ad esplorare L'ho scaricata Fantastico Forse Il portale del land Si trova da questa parte Seguendo questo ponte Di legno lo sapevo Sì Sono un genio Kawabunga Oh mamma mia Land in VR Mette ancia enorme Ok Aspetta Le ragnatele Non portano le ragnatele Cos'è non mi funzionano Ok Una è partita Oh Ragnatela È su Perfetto Vai 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 No 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 Ok sali 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 Ok aspetta Io sono Spiderman Posso comunque Arrampicarmi Piano Piano Guardate Cosa mi tocca Fare Ok Ci sono Ci sono Sono stabile Oh mamma mia M'è pieno di zombie Ma ci sono anche zombie diversi Da quelli normali E lì ci sono gli Steve Qui è già iniziata la battaglia No non ci posso credere Che cosa sta succedendo Ehi Ehi Alcuni camminano Alcuni sono dormienti Aspetta No 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 Non ci provare Oh mamma mia Oh mamma mia Corri 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 Guarda Quanti ne sono È pieno di zombie Ragazzi Amici Mi servirebbe Una manina Ma non possono salire Vero Perfetto Non possono salire Imbecilli Mi serve una mano Cosa stanno facendo Sti due Devo ricaricare Devo ricaricare Morite Morite Oh Ma non è che posso fare tutto io Su Dobbiamo uccidere gli zombie Mamma mia Vieni qua Vieni qua Tu mi devi dare una mano Ad uccidere Gli zombie Vai Ammazzali Ammazzatevi Su Dai Altrimenti vi ammazzo tutti io Faccio una strage Vi avverto Che fate Che fate voi due No non ci posso credere Non ci posso credere Su Mori Mori Ragazzi Ragazzi però Guarda Così non si fa Che cosa siete entrati a fare Nell'end Per guardarmi No 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 Ce l'ho La spada La spada Maledetti Schifosi zombie Vi prendo A spadate in bocca Ho la mia spada di diamante Oh Mamma mia Mamma mia Cos'è Sto Entrando Nella testa Non ce la faccio più Per favore Aiutatemi Che cosa state guardando State davanti all'uovo Del drago Mamma mia Che figata Ma l'avete ammazzato voi Il drago Non ho capito Cos'è Lo state adorando Lo state venerando Oh Imbecille Baba boy Che 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 c'è Vuoi un abbraccio Vieni qua Abbracciamoci Bravo bravo Avete ucciso il drago Del land Mica Mica No ho rotto qualcosa Ho rotto qualcosa Ho colpito il computer Tu non guardare Aiuto No 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 Sto distruggendo camera Sto distruggendo camera Ci sono troppi zombie Ci sono troppi zombie Qui dobbiamo trovare Una soluzione Utile per tutti Dammi la pistola Mi è venuta un'idea No 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 Vieni qua Vieni qua Aspetta Aspetta Johnny Sganciala Adesso E per favore muoviti Sto lanciando i caricatori In bocca agli zombie Non ho più armi Ti prego In che senso L'hai già fatta cadere Ma dove Non è Vero Ok Scusa Johnny Scherzavo Piano Piano Aspetta Forse posso Trascinarla qui da me Ok Dov'è il tasto Dov'è il tasto Eh levati Maledetto zombie Ok 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 Dov'è Dov'è La devo far detonare Ah Come si fa Come si fa Attacca 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 Che è Falla detonare tu Me ne vado Me ne vado Me ne vado Oh mamma mia Oh mamma mia Addio a tutti È stato Un piacere Avervi Al prossimo video Ho letteralmente Creato un pianeta